Gli dei dell'antica Grecia non sono scompassi ma vivono a New York. Stanno per scatenare la guerra più fluente di tutti i tempi. Qualcuno ha rubato la foglia di Zeus e perso di uno scendere dagli inferiari. Questo libro racconta la vita di un ragazzo a prima vista normale, ma che qui diventa tutto altro. Immaginate se la vostra profe di matematica si interesse contro di voi. Immaginate se vi dicessero che se tu figli di un di greco ci credereste. Questa è proprio quello che crede al nostro verso. Questo libro lo consiglio alle persone che hanno scelto l'iniziativa, a chi non ha paura di nulla, a chi è molto coraggioso e a chi non si leva mai da pubblico. Spero che abbiate pronte l'armatura perché ci sarà da combattere. Ricordate, la lettura rende liberi. Liberiamoci.